Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui andiamo a presentare e a vedere nel dettaglio la nuova torre uscita questa settimana la Cosmic Orrery torre che praticamente troveremo in un ramo a parte in questo evento come abbiamo già visto al costo di 15 mila sigilli avremo troveremo anche due chiave all'interno 22 casse platino 109 frammenti cosmici e troveremo anche timer timer che saranno 475 da 12 se non se prendiamo praticamente tutti i time nell'opzione di scelta tra i timer e le barrette electrum e 222 da 12 ore se andremo a scegliere le barrette electrum anziché i timer nelle varie scelte quale funzione ha questa torre praticamente è una torre che può essere sostituita può andare a sostituire la flak earth o la tempesta poiché il suo supercolpo praticamente fa quello che fa queste torri ovvero va a creare uno scudo invincibile su tutte le torri vicine inoltre questa torre ha anche un'altra doppia funzione addirittura legata ai colpi normali quindi non supercolpi poiché questi colpi normali di questa torre vanno ad accelerare il drago e a bloccare la rigenerazione della rabbia dal drago stesso quindi mette in difficoltà comunque il drago perché velocizzando si rischia di lasciare comunque delle torri dietro la portata di questa torre ha praticamente una un raggio d'azione pari a quello della tempesta per quanto riguarda il supercolpo quindi supercolpo si attiva abbastanza presto quindi può essere anche posizionata non avanti nelle isole ma anche un po dietro e mentre i colpi normali hanno addirittura un raggio d'azione superiore a quello della tempesta poiché ragione la tempesta è 90 quindi supercolpi avevano un raggio d'azione 90 mentre la coppia normali hanno ragione 100 quindi praticamente spara comunque abbastanza una distanza comunque considerevole andiamo adesso a vedere invece una serie di attacchi fatti contro questa torre per vedere appunto come funziona come può funzionare nei vari posizionamenti che possiamo avere nelle varie isole iniziando a capire come realmente funzionano i colpi normali di questo drago come abbiamo ben detto i colpi normali accelerano il drago e bloccano la rigenerazione della rabbia come possiamo vedere in questo spezzone vediamo appunto come il drago in questo caso un calavore ogni volta che viene colpito dai colpi normali acceleri questo ovviamente quindi su base di difesa e mette in difficoltà poiché si rischia di lasciare delle torri indietro inoltre come vediamo anche da quest'altro spezzone le attacche della rabbia vengono congelate quindi in questo caso non verrà più rigenerata rabbia andiamo adesso a vedere invece delle posizioni che possiamo possiamo mettere comunque questa torre andiamo a vedere un po' i pro e i contro di posizionarle sia in un punto che in un altro partendo dalla posizione comunque avanzata quindi metterla avanti o al centro abbiamo una torre che di contro può essere facilmente bersaglio dei colpi che vanno a shottare questa torre però comunque si abbiamo un pro nel senso che si attiva veramente subitissimo e comunque va a proteggere subito tutte le torri vicine non permettendo comunque chi attacca da lasciare inoltre avendo una base molto piccola è quasi impossibile andare a centrare due torri insieme con un colpo che va a shottare anche se questo probabilmente settimana prossima verrà aggiustato perché si risulta essere un bug visivo quindi come andiamo a vedere anche in questo video attaccando calavore si va a shottare subito però comunque sia lo scudo parte veramente presto quindi tutte le torri vengono immediatamente protette e quindi non si possono shottare seconda posizione posizione che la vede inserita nella parte posteriore di un'isola quindi in alto a destra in alto a sinistra anche qui abbiamo dei pro e dei contro secondo me un pro che è legato a questa posizione quindi metterla torri in questa posizione è legato al fatto che chi attacca e a disposizione comunque coppi che vanno a shottare le torri e deve scegliere tra shottarla direttamente e quindi comunque lasciarsi le tre torri avanti integre o andare a shottare velocemente comunque essere abbastanza veloci le torri una delle due torri avanti o entrambi le torri avanti per andare poi ad attaccare la ore di dietro in questo caso ci consente comunque di utilizzare anche i colpi normali della torre e quindi mettere in difficoltà il drago proprio perché come abbiamo visto in precedenza il drago colpito dai colpi normali della torre viene accelerato e comunque li viene bloccata anche alla rigenerazione della rabbia nel caso poi comunque venga shottata per primo il contro appunto che non riusciamo ad utilizzare comunque i colpi normali proprio perché la torre viene distrutta subito però comunque sia lo scudo parte quindi vengono protette comunque per qualche secondo tutte le torri vicine come possiamo vedere da questi due esempi quindi direttamente nel video andiamo a shottare in questo caso una delle torri avanti bisogna essere comunque abbastanza veloci perché si attiva comunque veramente velocissima la oreri e in questo caso comunque sfruttiamo anche le sue l'abilità dei suoi colpi mentre nel secondo caso shottando direttamente alla oreri si va comunque a devi ad evitare comunque sia in un certo senso poi i colpi che può sparare però comunque sia ne distruggiamo distruggiamo solo una torre quindi abbiamo come vediamo tutti con tutte le torri avanti integre terza ed ultima posizione messa in isola lunga nella prima fila della dell'isola comunque dietro posizione comunque anche questa abbastanza interessante poiché ci consente di sfruttare appieno quelli che sono le capacità le capacità dei suoi colpi dato che difficilmente può essere shottata subito come abbiamo visto nelle casi precedenti e quindi ci consente di sfruttare davvero al massimo quelli che sono i colpi normali di questa torre ovvero che vanno a congelare la rabbia e velocizzare il drago di contro abbiamo che comunque lo scudo si attiva comunque un po tardi quindi nell'isola avanti dobbiamo siamo costretti a comunque a mettere una aert o una tempesta aggiuntiva effettivamente come possiamo quindi vedere dal video vediamo che veniamo colpiti abbastanza spesso nonostante che nonostante comunque in questo caso utilizziamo anche il mantello con il cacciatore e quindi come abbiamo già detto in precedenza andiamo ad utilizzare a pieno le potenzialità dei colpi normali di questa torre conclusione finali per quanto mi riguarda tra le tre posizioni le due le due migliori da valutare sono la la seconda e la terza ovvero la mettere la torre dietro nella parte nella parte posteriore dell'isola quindi in alto a destra o a sinistra per comunque indurre chi attacca a sbagliare dato che come abbiamo già detto lo scudo si attiva veramente presto quindi se uno non mira subito la torre si attiva veramente molto velocemente lo scudo quindi anche se uno attacca con un drago che ha magie che vanno a sciottare diventa comunque difficile fare le cose fatte bene quindi o in questa posizione consapevole del fatto che comunque se viene attaccata viene sciottata subito comunque non riusciamo a sfruttare i copri poi della torre oppure l'altra soluzione un'ottima soluzione quella di metterla in isole lunghe dietro quindi nell'isola posteriore e però metterla ovviamente nella prima fila dell'isola posteriore e sfruttare al massimo quelli che sono i colpi normali di questo drago che comunque sono molto importanti poiché vanno ad accelerare il drago bloccano la rigenerazione della rabbia e quindi andando a accelerare il drago fanno sci che se lo comunque non la va a distruggere come uno dei primi obiettivi va a finire comunque il drago viene accelerato soprattutto se si attacca con draghi che non hanno mantelli o non hanno magie che vanno a congelare quindi a bloccare questa torre vanno incontro comunque a quindi ad accelerare il drago e a perdersi inevitabilmente delle torri che rimarranno dietro e non faranno fare comunque al 100 per cento con un solo drago bene ragazzi anche questo video termina qui se vi è piaciuto mettete un like ci vedete al canale attivate la campanina in modo tale da essere sempre aggiornati se avete domande scrivete nelle commenti condividetelo con i vostri amici come sempre ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao